Musica Sono tutto un fuoco Non c'è gloria senza oro Ecco il terrore Ciao a tutti ragazzi sono Orvento Myagic Oggi sono qua insieme Uno che non urla Sì Devo urlare perché la telecamera è abbastanza lontana Allora ragazzi oggi siamo qua con un gameplay di Skylanders One Force Dopo gli ultimi due capitoli che avete visto nella recensione Che spero che vi andate a vedere Che metterò se me lo ricordo in questo momento Nel video Ok allora ragazzi abbiamo scelto di formare così questi video Poi se nei commenti avete voglia di cambiare Non cambieremo Chi se ne frega non sto scherzando Allora Vabbè intanto che c'è la sigla dell'Action Spero che non vi vieno capirete Sì proprio Ok ragazzi allora Prima di tutto vi diciamo un pochino Cosa abbiamo in mente di fare Allora in ogni video mostreremo Un gruppo di Skylanders che abbiamo scelto noi Insieme a uno speciale Che potrebbe essere One Force eccetera Però prima abbiamo pensato di fare così Di fare i tre Skylanders dello starter pack Di Spirit Adventure Di Giants e di Swan Force In modo da farvi vedere un pochino Una domanda non è che se spegni l'audio della televisione Dopo non sento Accendiamo l'audio della televisione E mi è caduto uno Skylander Cazzo Eh ok Vabbè al minimo lo sentiremo anche noi Se sentite l'economia frega niente E vabbè partiamo Purtroppo il gamepad Non lo potete vedere anche perché se lo vedete Si vede da culo Quindi non lo so Si vede un'enorme luce bianca Dovreste vedere tipo Cioè vedete una cosa così Ma comunque nel gamepad Ve lo dirò nella recensione Ma vedrete in pratica Quello Dove si comprati Una videocamera HD Si però non c'è i soldi adesso Direi che li hai già usati per quella Ok allora ragazzi Abbiamo un po' di gelato in salvataggio Noi eliminiamo questo qua Che mi sono dimenticato di eliminare Prima del video Ok perfetto Sai che se non sta registrando le prove stelle Si lo so Ok ragazzi Partiamo Con i tre Skylander di base Ciao 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 Perché scegliamo Difficile Infatti questa dovrebbe essere sbloccata Fai dicio O va sbloccata Ma è difficile Che cazzo era Cazzo che ride Ehm Ehm No Ovviamente dobbiamo fare quella più difficile Poi se sblochiamo quella da incubo La poniamo Ha fatto soffrire il mio orecchio destro E anche loro immagino Ah Ho messo sotto titoli per favore Una scena Cosa? Ok Perfetto Io comincio con Cosa comincio? Io comincio con questo Eh però voglio farlo vedere Pazienza Ok Vabbè Spiro E' quello principale Perché poi spiro Con Skylander Non ha senso Ok Io avrei bisogno di qualcosa Tipo Internazionale Grazie gli omissili Che appelli diversi Ehm Esattamente Ok Ah Ehm Cazzo Ehm Dai abbiamo ancora solo 40 ore di video Poi si stoppa Dai muoviti Veloce 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 Spero che tu non riuscirai mai più a dire la parola veloce nella tua vita Ehm Non riesco più a dirla Ok Clicca Tasto A Perfetto Adesso lo trovo ancora Leggera Senza Ok Perfetto In questo campione A parte ragazzi Vedrete piano piano Tutti i poteri degli Skylander Quindi subitoci Ehm Ehm Io stavo già per usare quello più potente Però Ehm 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 Credibilmente questo è una grande novità che si possa fare Questo è vero Questo è vero L'ho già dimenticato Queste sono tipo le cose casuali che devono succedere Beh No veramente Ma guarda la 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 Watch Oh ragazzi che sipath potenziato poco Questa invece è potenziata tantissimo La mossa quella fantastica non fa vedere la nostra persona Ma che cazzo sono quei lavori? C'è un video Mi ricordavo diversi Eh, hanno rifatto il testo Ma te l'hai visto sto video dopo? Eh, no Ah, quindi non hai visto un cazzo Ah, ecco perché prima stai dietro e non c'era il video Mi stavo concentrando psicologicamente nel regno fisico della morte Sì, ho capito Tanto quando poi rivedrai il video E poi rivedrai, è vero Perché sta diventando brutale su un vulcano, la cosa non è chiara Eh, non ci sono dei punti Mi sono dei punti Non ci sono dei punti, veramente sui cinque, ma si troveremo capire E questo è il nucleo del vulcano E quello del vulcano Ecco, lì sono un nucleo del vulcano Non credo che cosa c'è un nucleo Non credo che in un asunto uso la componente Ma è natura, a parte il Hobbit C'è un po' cosa che è un po' Ma non è che... Questi sono i soliti tipi tipo siamo le deficienti e non capiamo un cazzo Questa nave è indistruttibile Una modalità difficile Guardate quanti colpi ci vogliono per uccidere, sono tantissime Allora mi sa che sarò potuto usare quello più potente Non sono abbastanza veloce? Oddio Lo vediamo poi dopo Due anni prima di caricarsi per farvi capire quanto sia potente questo capo Fra poco il prato è un altro video Troppo cosento, quella mossa tira via 200 E vediamo qua Un panorama che è stato tutto rifatto Prima non si tratta di un altro paletto diverso Com'è che è davanti il micro? Perché è come un mezz'aluce di cocco Un mezz'aluce di cocco che stava parlando Questo è troppo bello Non lo so solo chi ha fatto il videogioco Per i tendi di mille draghi Cosa sarebbe? Cosa non ho capito? Mille draghi? Per i tendi di mille draghi? Ah le pende? Sbaglio Non mi piace perché sta battuta Sì certo, sei deficiente Non devo saltare di mille draghi Pensa che me ne frega qualcuno Beh gli ha premolto la tua cessa Pensi che me ne frega qualcuno? Adesso dovremmo fare un'ora di mappa e l'ora di due secondi città il trasporto E poi appena arriviamo lo ci dicono Perché ci avete messo così tanto? Ah fanno sempre Forse perché ci avete fatto fare tutto il giro E qua non c'era un cazzo Però trovo qualcosa qui Cos'è quel lavoro tipo filo magico super strano lavoro? Eh quale filo magico? Lascia stare va? Veramente io non ti sto parlando Ah quel filo magico ci tiene vicini Ah Che negli altri Skylander era anche molto ridotto Infatti era un po' che coglioni non muore esagerato Poi l'hanno anche aumentato perché bisogna saltare Quindi Te l'ho detto io non abbandono la mia nave Ma guardalo Temo che non tornerà mai più la stessa Fa il modo che il suo sappicino Non si è saltato va Il video sembra che sia morto di sa cosa Non preoccuparti Però il modo che venga rimorchiata fino in città Tu va avanti Skylander Segui il sentiero e arriverei per il tuo tavolo del bosco Si credo Pensi che merito che vuoi a cosa di quella nave? Cioè proprio Ci abbiamo visto solo uno Skylander ed è stato Uno Skylander più brutto di tutti Guardatevi che questo Skylander sarà totalmente diverso E E ci hanno buttato giù un ponte Mi dicono Si può anche cadere? Eh no Sono in certi punti E quando cadi non ti fai nulla Quindi è una finirata quel lavoro lì Perché quando tipo Sei troppo lontano dai tuoi compagni Devo prendere un bel po' di cuglio Bello Un consiglio che vi diamo quando giocate con il vostro amichetto Amichetto? Amichetto 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 Non voglio parlare della mia propria Non mi serenità Oddio no Forse non dovevo sparare No Cos'è questo lavoro? Tu hai preso il cibo subito che non diceva un cavolo Perfetto Oh no ma guarda una punta Oh no ma guarda una punta Una punta Tu non mi hai detto il tuo nome Come faccio a sapere come ti chiami? Barca Una barca Sì ma come fanno a subuncare da sottoterra? Spiegatemi Vabbè con la bocca che c'hanno scavo Pensa un po' Certo Non so se adesso c'è una faccia non c'è C'è una faccia non c'è una prima modalità facile Ah se vede che ti tirano a piaccia di vita Sì ma se ci beccano Mi sembra molto difficile Noi registriamo tutto il livello di cibo e poi poi lo taglieremo Quindi magari ci metterò il saluto del fine livello che non c'è un cazzo Eh No è una X Se avete notato hanno anche cambiato la testa uno dei personaggi In basso vedi come è il tigerebbe finissimo No io ho messo quella vecchia Non lo so e non me ne frega Niente Forse però non dovremmo registrare tutto il video una volta sai perché? Perché intanto voi avete visto un figato che hanno aggiunto no? Che mentre ci sono i video no si carica i videogiochi In modo che così non vi coglioni di caricarsi Perché non vi voglio Notare che lui uccide tutto il fine di punti Allora mi servo Niente Aspetta c'è un avalice in realtà difficile muore, 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 oddio quanta vita è vero aspetta c'è una valista eh lo so non abbiamo perso una eh questo è tutto speriamo di non aver perso una che erano inizi noi ragazzi scopriamo gli uomini che sappiamo dopo chi se ne frega se ne troviamo e perché a parte di fare gli studenti come la fine e che bene ma si mette i personaggi ah non li avevo visti neanche veramente cavolo guarda qui e quanta vita mi ha tirato via? io sono abituato ad usare B per usare per l'attacco pesante e ok io comincio a caricare l'attacco non puoi perché ci sono i ciobbi che camminano che non vedremo mai forse vedremo qui vedremo e lo faccio io perché è stato così ovviamente i ragazzi i comandi sono difficili sono diversi da tutti e due io odio quando i videogiochi ti ringraziano tutti tantissimo ci sembri chissà che te sei un mostro ci sembra tipo che la ditta le chiacchierate il mio gioco e ditta e se ne onoriamo un giocatore o di c'è qualcuno che mi ha ecco l'ho fatto esplodere tanto cos'è questo lavoro? le chiavi ah già le chiavi io me lo ricordo stavolta è diverso però No provo a mettere la tende vabbè di mettere la tende non poter chiacciare questa domanda Noi facciamo vedere solo quelli principali, quindi non apriremo queste porte. Mi dispiace. Questa è dove si può aprire. Fatto. Ragazzi, qui si parte di scheda andata che vedete partiremo solo, perché c'erano ancora degli altri, eh? Si, poi ci sono quelli speciali e... Non apriamo perché... Me l'ho dimenticata l'abilità... Perché... Si, potenziata. Dove fosse infinita. Infatti dovrebbe essere infinita. Guarda. Ragazzi, praticamente in ogni video quando noi aggiungiamo gli Skylander, no? Finisce proprio qua. Quando noi aggiungiamo gli Skylander è come se... Ah, ma no. Ma prendiamo vite entrambi adesso, non solo uno. Eh, si è vero, te lo volevo dire. Hanno diviso tutto, anche i tesori. Tutto quanto è diviso. Cioè, se devo presentare lo guadagno neanche io. Anche se io prendo quel lavoro lì, per esempio, lo prendi anche te? Questo qua in fondo. E dovremmo... No, non lo so veramente. Si. Dividono tutta la metà. La cosa mi piace. Si, perché così non... Non ditichiamo come al solito. E... Dovremmo anche cambiare Skylander, però. Quale cazzo c'era? Dov'è? E... Si. Ok, allora... Già che te triggereppi e che io ho una merda. Diciamo che è una merda che è poco potenziato. E questo invece potenziato si no? Decisamente si. Si. C'è anche il cappello del compleanno. Si, compleanno! Allora, questo qua può sparare a... E dovremmo magari qua, lo sai? Come, è vero? No, cazzo non possiamo. E' pirla. Della terra qua. Cos'è? Un rutto. Sai cosa? Potremmo usare uno Skylander che non facciamo vedere nel video e quello che non facciamo vedere più avanti. Vabbè, la gemma dell'anima lo facciamo vedere o ci segnala per copyright. Lo proviamo. Non credo. Non solo per questo. Non solo per questo, perché lo faranno sicuramente. E questo qua è uno dei miei Skylander No Swan Force preferito. Perché no, se vuoi andare su Swan Force ci sono degli Skylander che non sono Swan Force ma sono rafferati. Questa parte però la tagli perché lo dobbiamo far vedere noi. Perché continua a telemarmi, incredibilmente, con sto a fare? Spero di vedere anche ilhopione. Voi, il massimo, se non la tagli chi se ne frega? No. Mi hai fatto beccato una vola in faccia. Adesso hai potenziato molto tutto il mio miscon faucet. A parte, vabbè ragazzi, va lì dove non prendiamo i tuoi giochi, se ne frega, l'importante è che ci divertiamo, che vi divertiate voi E se vi annoiate, chi se ne frega? La sto scherzando, ci stiamo scherzando, speriamo, spero però No, non è che la sto scherzando Aiaa No, non capisco, tanto la volevo nella recensione, spero Gli Sky Nader possono arrivare fino al livello... 15 15, 15, no, aspetta più avanti Vabbè? Direi fino al 20, se non mi spagno Ci ne frega qualcosa di questo? No Trovate per che meno storica, la leggiamo Ok, voi se volete bloccate il video noi andiamo avanti Perfetto, perché è una merda Non me ne frega assolutamente Perché se ne ne frega niente devi andare avanti di un quarto d'ora Allora, questi qua ragazzi sono praticamente ogni Swamp Force sotto ha dei... Ha questi poteri che sono quei simbolini che ci sono sotto che vedremo poi più avanti Questi qua? No, sono questi qua Ah, questi, guardate Questo è lo Swamp Force Ve lo faccio vedere che ci sono qui Vedete quella specie di razzo che ha davanti? È quello che servirebbe in questo momento, però noi non lo useremo Lo useremo perché? Perché sì E... Simpatico Poi Massimo più avanti Ti serve una teca in Italia? No, nel mio file io prendo tutto Quindi più avanti Massimo lo faremo vedere nei miei file Se proprio non l'abbiamo Magari facciamo un video per far vedere tutti i miei giochi che fanno quelli lì Perché sono i miei giochi Voi cercate di ricordarlo nei commenti che ci saremmo già scordati Cosa facciamo? Stiamo sempre si schierando oppure cambiamo perché siamo cercamente a livello? Cosa significa questo? Vabbè, chi se ne frega, facciamo tutto arrivare a questo sistema E...Sata Cosa è stata per prendere i soldi? Oh, 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 oh Figo, vero? Non possiamo fare un cazzo? Però sembra... Oh, il topi Mi dicono... No, più caso più che leggendo Zelda Zelda mi sembra? No, intendo... Tarza Sì, però, quello era ovvio Però intendevo ai presenti Nintendo Render, no? Che c'è... E... Che figa Quello di Zelda, no? Che praticamente non dobbiamo fare una cosa precisa, no? Dobbiamo scegliere una stessa precisa, no? No, non possiamo dire Sì, proprio quelli sono in fila Eh, no, viene meglio a te Ecco, questa strontata qua ci fa un po' più piaciuta là perché... Io so già Catacusane Sì Non è che mi proteggi finché non lo sapete Sì, va bene C'è un P Già posso la... C'è un P-Pod C'è un P-Pod Non lo traducono perché è più figo Non ne vedo niente Sì, è spettissimo più tempo Però... Un 2-5 Vuoi morire Ok, grazie E... Guarda, io volo lanciando... Quello non possiamo farlo No, perché è aria Però le due monetine da in fondo, visto che sono tier, le voglio prenderle Ma se usassimo skyline a rare e quello che lo tirassimo via dal portal of power Tagli al video Tagli al video Vabbè ma se vi ricordo di tagliarlo perché è un casino tagliarlo Non lo ricorderò No? Vuoi che ce ne fregati E... Ecco il terrone dei magi Il terrone dei magi Ho sentito Il terrone E' parte di Swan Porsche Non ve le faremo vedere nei video perché sono incredibilmente nonRE io cosa da vedere e vi farò un video a riguardo, un velocizzato magari. Aspetta da andare a girare. Soldi, che ho soldi, soldi. Soldi, 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 basta. In questo gioco, più che segreti, bisogna avere tutti gli schieranti, insomma a spendere una cosa. Ci sono 2.999 soldi. Tanto se non rendi più possiamo spendere tutti i capelli che ci sono, che ce ne sono una tazia. Bello? No. Ma io sono tipo Beato, sembra che mi muovo con la testa. Ma te muovi solo le pistole. Siamo singoli? No. L'hanno leggermente velocizzato dall'autoskeylander. Prova a sparare. B, B, B. Ah, anche O. E a caso! Poi ho fatto il cambio di sottolineare. A casa parte la velocità di posto, lo sparo continuamente. Se non si corrono. Poi faccio l'inissuto e poi ci sanno delle mega ballardi. Ti ha tre scelte, allora. Ecco ci sono questi, che sono sparo un casino in serie, stanno continuando. Sparo con il viso, e te, te. Poi non faccio il nuovo patinato, che è difficile. Infatti quello che non capisci è perché i due non lo compitan. C'è per esempio dove rinforzi fare gli occhioni, dai cinconanti. Ah, c'è tipo di diventare luce. la pratica da una dove serve figo? in questa zona i ragazzi sono più potenti che andare ma non ce la può pegare peccato per la testa niente oddio non ti cattare più nostri personale quando ti fatti la tua scelte non mi sono distratto no, mi sono distratto non c'è la mia vita noi no, e poi non c'è la tua vita non c'è la mia 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 vita va bene adesso c'è la mia vita bellissima sii grazie un cappello di merda no che cos'è un cappello? ah qua si possono trovare non solo per me funzionava al 2% dei sconti fino ad arrivare a credo tipo sarà al 50% o 60% mi faccio notare che io sono tirchio ma sparo monete è un trucco è un trucco ragazzi perchè nell'eccessione non lo spero che non avrò di più un cazzo adesso un consiglio è che se avete un file che avete più sconto aspetta se andate per esempio dalla playstation a wii in scale anche sono sempre potenziati così cosa c'è in fondo? possiamo prenderlo dopo devi dirvelo prima di sapere non ce lo voglio questi sono dei luoghi speciali che mi piacciono troppo comuni però se abbiamo un gigant eh si vabbè non lo facciamo tanto ti nascerò dei soliti di solito ti prendo scusa io sei già passato il livello? aspetta che faccio tipo grazie poi ragazzi se non mi piace questo modo devo far tutto il giro vieni giù un attimo devo far tutto il giro tanto la roba non scompare per un bel po' perchè funziona l'anno miglato muoviti eh devo uccidere ok direi che quando siamo questo questa che aveva sono i soldi 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 aiuto ne aiuto aiuto tra i paesi prendo questo intanto ce lo divido no, sono deficiente posso fare anche il volo e aspetta uscire dalla caverna ciao a tutti i ragazzi del Endor Magic vabbè ciao a tutti ciao ciao